Il titolo di oggi è dall'unità, la pagina 20, il titolo è lo sguardo di aria ed è un articolo dedicato a Incompresa di Asia Argento, che esce oggi, è un articolo non firmato, ma nell'articolo stesso ci sono riferimenti a quanto l'autore o l'atrice dell'articolo è uno scritto da Cannes, quindi dovrebbe essere Gabriella Gallozzi, inviata a Cannes, che ne scrisse il 25 di maggio e si fa riferimento ai colori pastello di Nicola Pecorini, un super operatore che ha lavorato con Polaschi e Bertolucci. Con il suo aiuto, si legge, Asia Argento ha costruito il film sullo sguardo di aria, la protagonista, certo un nome che non ho scelto a caso. I colori sono quelli che una bambina sola e triste usa per dipingere un mondo ostile, il punto di vista della macchina da presa è spesso dall'alto, come se aria osservarsi i personaggi all'interno di una casa di bambule. Un mondo al tempo stesso idealizzato e asfittico, in cui i membri di una famiglia disfunzionale sono costretti a coesistere controvoglia.